Belli ragazzi. Io e Gaia assaggiamo il cibo americato che abbiamo preso e ci hanno messo troppo tempo, quindi ora lo votiamo. Famo che andiamo a cieca, cioè scegli prima e poi io. Patatine alla nocciola. Sanno tipo troppo di nocciola. Fare cacca di cammello. Raga. Prima assaggio. Sembra di mangiare le noccioline quelle che prendi alla sesta. Tocca qui. Non guardare. C'è Harry. No, ci faccio. Sono troppo curiosa a vedere. No. Venti tipo il coso. Si sente l'odore di fragola. Buona. E' buona. Mi ricorda la Red Bull. E' buona. Questo è l'ultimo assaggio, raga. Io ho scelto questa caramella lunga. Io ho scelto sto coso che pare di antifricio, però si fidamo. Se non è rosa mentre l'apro, ci rimarrei troppo male. Ma io non ci riesco ad aprirla. Raga, io assaggio. Raga, questo è mango ed è buono. Io non lo so perché ancora devo assaggiare. Dopo il cazzotto vi dico voto... Due, buono. Questa è buona, però non sa proprio di fragola. Vodo. Sette e mezzo. Nemo.